L'insalata di couscous, piatto unico e completo, con verdure, legumi e bresaola. Per prima cosa facciamo che svolentare un po' d'acqua con un filo d'olio e un po' di sale, aggiungiamo un cucchiaino di curcuma, che andiamo poi a coprire il nostro couscous e lo lasciamo a riposo. Intanto abbiamo cotto già i nostri ceci, poi sgraniamo il couscous e nel frattempo prepariamo anche le verdure, due o tre zucchine cotte al vapore e anche un paio di carote, le facciamo tutte a cubetti. Una volta sgranato il couscous, andiamo poi a preparare un'emulsione di olio, limone, se volete anche un po' d'aceto, un po' di sale e andiamo a mescolare le verdure, i ceci e al tutto aggiungiamo infine il couscous. Terminiamo poi con un etto di bresaola tutto a pezzetti e un ciuffetto di prezzemolo per guarnire.